C'era una volta un posto speciale dove lasciare i bambini a giocare, dove le mamme compravano libri, sedendosi al bar con le amiche ed i bimbi. Quando si impara col divertimento, si fanno amicizie e ritorni contento. Per compleanni o qualsiasi occasione, quel posto è qui a Reggio, in via Giorgione.